Benvenuti ad un nuovo appuntamento di viaggi senza valigia. Sono proposte di itinerari per una giornata da passare alla scoperta delle eccellenze del Piemonte. Oggi vi porto su un lago, non è quello che vedete alle mie spalle, qui siamo sul fiume Po in una giornata meravigliosa, ma comunque ci allontaniamo di soltanto un paio d'ore da Torino. Il lago che vi porto a visitare è il lago di Mergozzo, piccolo, alle spalle del più famoso lago maggiore, però vi garantisco che l'itinerario vale assolutamente la pena. Si tratta di un piccolo lago e se ci andate d'estate portatevi il costume perché il fatto che sia piccolo impedisce la navigazione da parte dei battelli e quindi fare il bagno nelle acque del lago di Mergozzo è comunque un'esperienza davvero meravigliosa. Il paesino è piccolo quindi vi suggerisco di andare a passeggio per le vie e scoprire così le piccole case in pietra, il borgo con appunto il lacciottolato ancora originale. Quando arriverete nella piazzetta del paese di Mergozzo vi accoglierà l'olmo del paese, è un olmo secolare a 500 anni quindi penso che di cose ne abbia viste passare davanti ai suoi occhi. Passeggiando per le vie del borgo potrete visitare anche la chiesa parrocchiale dell'Assunta e la chiesa di Santa Maria. Tornando verso la statale del Fondo Toce c'è anche un interessantissimo complesso paleocristiano. Sono tre chiese che sono rimaste appunto dall'epoca medievale, belle da vedere e suggestive per la sistemazione. Non dimentichiamo però che abbiamo anche fame due le proposte che vi faccio. Una della taverna del Sass in cui potete degustare quelli che sono i piatti tipici della cucina piemontese. L'altro invece un pochettino più moderno è il grotto della dispensa, entrambe proposte valide tra cui potete scegliere. Potete dedicarvi invece a una bella passeggiata sulle rive del lago e a godervi il sole che magari la giornata vi può riservare. Con questo finisce l'ispirazione per il viaggio di oggi. Spero di avervi dato un buon consiglio. Se ne volete altri o volete trovare maggiore indicazioni vi consiglio di seguirmi sul sito www.treciao.it